Questa mattina è emerso un caso di morte ancora avvolto dal mistero a Nova Feltria in via Uffogliano. Un uomo peruviano di 42 anni è stato trovato senza vita nel suo appartamento, segnalato dal padrone di casa, preoccupato dopo tre giorni di assenza. L'allarme è stato lanciato ai vigili del fuoco e ai carabinieri che dopo aver forzato la porta d'ingresso hanno scoperto il corpo. L'appartamento è stato sigillato per le indagini, il magistrato è stato informato, non sono stati riscontrati segni di effrazione o lotta secondo una prima ricostruzione. Il medico legale non ha individuato elementi di violenza o interferenze esterne sul corpo dell'uomo durante la prima ispezione. La situazione richiede ulteriori accertamenti per comprendere le circostanze del decesso.